eccoci qua ragazzi questa è la terza parte eh eh si e guardate dove siamo ah non so che è sto posto dove siamo qui eh no aspetta mi sa che siamo sull'autogrill si è qua giù scritto aspetta si proprio autogrill si e infatti adesso però adesso ho tanta fame e voglio mangiare qualcosa sembra l'entrata però è lì dentro ecco qua ora si entra vediamo che ha ora vediamo oh guarda abbiamo i cioppascioppisi giganti ma è finto è soltanto è finto ma l'ho detto ci sono i cioppascioppisi però piccoli non sono quelli grandi vero e guarda questi erano anche gli epibans eh esso sono buonissime è vero eh poi abbiamo quelle di cioccolatine altre cose altre cose di epibans e oh guarda abbiamo anche le patatine e guarda tante bevande così eccetera eh e già le pringles e già e il vino e dei peluche è vero e poi è un cioccolatino gigante già vediamo che altro abbiamo qui scusate ragazzi che prima avevo un pochino di mal di gola e volevo far vedere un'altra cosa e guardate qui c'è rigiocato lì in questa bar però qui ci sono saltati peluche o veri pupazzi è vero ma guarda che carino questo è vero è un orso polare ed è puccioso già poi qui abbiamo anche non so se questo sarà un cinghiano un faccocero però scusate che aspetta scusate avevo sempre il mal di gole dicevo che guarda non so se questo sarà un cinghiano un faccocero però è puccioso lo stesso già poi abbiamo anche un coccodrillo unicordie e altre cose così eccetera poi macchinine e basta altre cose da colorare che a noi non ci interessa già altre bevande però schiacciate ecco qua cibo eh infatti ha proprio amore di un panino cosa vorresti prendere tu? se fosse così vuole una cottoletta? va bene una cottoletta John puoi comprare? lo saprò? lo saprò? puoi scontrò? perché non provo a prendere quel panino a formaggio? a me non mi piace il formaggio non si piace? va bene perché non provo a prendere quello? ma dai io voglio quanto faccio per la cottoletta dai guarda quanto è carino poi eh vero grazie su grazie su grazie su grazie su grazie su grazie vi vediamo se c'è qualcos'altro da prendere aspetto attenzione ah ecco prendiamo delle pringles e delle cottolette c'è una cottoletta già vediamo meglio queste sono buonissime già vediamo un po' oh cioccolato allora prima non ce li prego se ne rimettiamo le via sono sempre la patatina già wow si meglio questo sarò buonissimi i biscotti si sarò buonissimi non ho quali i biscotti però è perfetto si meglio questo già è il numero 9 è il numero 9 un cibo di storia ci sei che è il municipio che è fa è che è il synagogue ci vuole tanto aspettare che prete si paga mi scusi si vuole che vuole la cottoletta laggiù mi scusi però la cottoletta è quella lì si scaldare la cottoletta si la cottoletta è 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 la cottoletta anche i biscotti per lì finalmente ora si mangia questi biscotti e già sono anche una becca scusate aspetta che dopo non si vede nulla ma guardate cos'è quello dice meno dolce da un paio da dolce non mi piace allora ecco devo dire che guarda ed anche abbia profumato già ma adesso aspettate un attimo ecco